Futuro di Vlaovic lontano dalla Juventus? È nel mirino di un top club europeo. Se da una parte si pensa al rinnovo di Angel Di Maria, dall'altra il futuro di Dusan Vlaovic alla Juventus è tutt'altro che scontato. In questo caso non c'è di mezzo un contratto in scadenza, ma la volontà dell'attaccante serbo di giocare in Champions League. D'altronde nel gennaio 2022 lasciò una Fiorentina lanciata verso il quarto posto proprio per giocare da subito la Coppa Europea di maggior prestigio per club con la maglia bianconera. E la situazione attuale, che vede la Juventus fuori dalla corsa Champions League a causa della penalizzazione di 15 punti in classifica, non è delle migliori per il serbo. In aiuto al calciatore potrebbe arrivare, anche stavolta, il calciomercato. Il suo nome è accostato a diversi cup club europei. Uno su tutti il Bayern Monaco, che ha osservato l'attaccante da vicino anche in occasione del derby della Mole. Secondo quanto riportato da ilbianconero.com, l'ex centravanti della Fiorentina è un obiettivo di mercato per l'estate dei bavaresi. Ma per convincere la Juventus dovranno presentarsi con un'offerta importante. D'altronde i bianconeri hanno investito circa 91 milioni di euro tra parte fissa, bonus e oneri accessori per portare a Torino il serbo un anno fa.